Gela ha perso un grande uomo, passionale in tutto quello che faceva, un vulcano di idee e di grande apertura con tutti. Ha scosso l'intera comunità, l'improvvisa morte dell'imprenditore Giovanni Paretti, 76 anni. Il suo corpo, privo di vita, ieri è stato rinvenuto nella sua residenza estiva di Contrada Manfria. Si trovava in piscina quando un malore improvviso lo ha struncato. Inutili si sono rilevati gli interventi immediati dei vicini e dei soccorritori del 118. Sul posto è giunta anche una volante della polizia. Il cuore di Paretti non batteva più. I funerali si daranno oggi pomeriggio alle 17.30 nella Chiesa Madre e saranno ufficiati dal parroco Don Enzo Cultraro. La vittima era conosciutissima a Gela e non solo. Paretti era stato il primo imprenditore ad avere costruito in città un albergo a 5 stelle che sorge sulla strada che conduce alla Statale per Catania. Frutto del mio lavoro sui campi, diceva sempre. Sì, perché Giovanni Paretti ha speso la sua vita soprattutto nel settore agricolo. Ed anche lì ha investito. E' tanto. E' stato anche uno dei primi costruttori a Gela di varie villette. In tanti, troppi, avrebbero voluto che scendesse in politica, ma lui ha sempre garbatamente rifiutato. Ho tante cose di cui occuparmi, disse in tempi non sospetti, e la mia risposta è sempre la solita. E poi, continuò a dire, la politica devono farla i politici. Però non mancava mai di bacchettare proprio la politica, assente in ogni dove, in ogni cosa che lui avrebbe voluto realizzare a Gela e per i gelesi. Scese anche in campo, e nel vero senso della parola, perché scese su un campo di calcio, fu il presidente anche del Gela Calcio. La squadra militava in Serie C2 e lui avrebbe voluto portarla in Serie B, ma in un solo anno, si capiva, che era poco avvezzo al mondo sportivo. Ma come dicevamo, in tutto quello che faceva ci metteva il cuore. Quel cuore che ieri lo ha tradito per sempre. Tre anni addietro, proprio mentre si trovava all'interno della sua struttura alberghiera, fu colpito da un malore. Fu ricoverato al reparto di terapia intensiva all'ospedale Vittorio Emanuele. Dopo settimane di cure, riuscì a ristabilirsi. Condoglianze alla famiglia Peretti giungono dall'editore di Canale 10, Antonio Cavaterra, dalla redazione e dallo staff tecnico della nostra emittente. Al dolore della famiglia Peretti si associano anche il presidente della Confocommercio Ascom Gela, Francesco Tranito, ed i componenti del Consiglio Direttivo.